salve a tutti e buone feste oggi è 31 dicembre 2022 ultimo giorno dell'anno e oggi è tornato alla casa del parre il papa emerito benedetto xvi mi trovo sul campanile per suonare per questa eccezione le sue le campane per annunciare questo evento la suonata che eseguiremo sarà il funebre cioè rintocchi su ogni campana e poi la grande a distesa come deciso dal vescovo e poi è stato inviato questo messaggio a tutte le parrocchie della diocesi grazie a tutti 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 grazie a tutti